Salve e bentornati. Il discorso che proveremo variamente ad intavolare quest'oggi è un breve scursus sul tema della presunta freddezza del pensiero. Questo spunto mi proviene da discussioni che si sentono un po' in giro su questo tema quando un po' ovunque purtroppo quando avvengono delle menzioni che siano relative alla cultura e dal pensiero ebbene c'è sempre colui o colei che tira fuori variamente la battutina che il pensiero è freddo, che l'intelletto è senza cuore, che la cultura è una cosa da aule e banchi di scuola, dunque remota, burocratica, distante, indifferente. Questa oltre ad essere una frase ed una mentalità che addolora profondamente, mostra anche la distruzione che è stata compiuta rispetto ai contenuti autentici della conoscenza a favore di una prospettiva ideologica, banalizzante, triviale. Se volessimo iniziare a pensare a questo discorso attraverso le prospettive, attraverso questa prospettiva secondo cui il pensiero è freddo, uno dovrebbe cominciare magari a porre la domanda, sappiamo, abbiamo spesso ripetuto che sappiamo bene che tutto questo non è possibile, non è possibile intavolare questo tipo di discorsi come questo brevissimo dialogo con amici che non si conoscono che stiamo provando ad intavolare qui. Questi discorsi non sono possibili, non sono neanche pensabili nell'ambito dei mezzi di comunicazione detti di massa o di manipolazione, sarebbe meglio dire nei mezzi di manipolazione di massa. Questi discorsi non sono neanche immaginabili, sono immaginabili qualunque abbrutimento, qualunque abbassamento, qualunque volgarità, qualunque bassezza, volendo così lasciar credere che questi riflettano la società, riflettono il mondo, riflettono la cosiddetta realtà, tra virgolette. Bene, noi sappiamo che così non è e tra noi significa quei pochi o molti che ancora abbiamo il piacere, la gioia, la pazienza e la passione per rivolgerci ai libri, per rivolgerci al pensiero, per capire che così non è, per rivolgerci anche al passato. Infatti vorrei non appena ho il tempo anche parlare di un altro testo che è importante in relazione a questo discorso sul revisionismo del passato. Ma riprendiamo la domanda da cui eravamo partiti. Se qualcuno nei nostri salotti televisivi immaginari, perché qui ogni tanto li immaginiamo questi salotti televisivi possibili, o queste, non lo so, sedi accademiche possibili, o questi istituti di cultura possibili, queste fiere del libro possibili. Le possibilità ci sarebbero, le possibilità esistono, i mezzi esistono. Ma questi strumenti vengono utilizzati nella maniera peggiore possibile e immaginabile, che però riflette in gran parte un'ideologia ben particolare, un'ideologia della piccola borghesia, che vede in tutto, in qualunque cosa, un riflesso della propria mediocrità, della propria piccolezza, che dunque eleva ad altezza ciò che è piccolo. Prende ciò che è piccolo, lo propone come grande, dicendo ecco vedete quello è grande. Ma per coloro, come dicevamo, che tornano ai libri, sanno che così non è. Ebbene, pensando a questa frase stucchevole, che propone il pensiero come qualcosa di freddo, di arido, innanzitutto bisognerebbe chiedere a questa persona, farmi un esempio di questa aridità. Dimmi un pensatore che sia freddo come dici tu. Ero ti tireranno fuori qualche accademico, perché questo è proprio lì che parte il problema, nella confusione tra colui che viene è chiamato a pensare, tra virgolette, per concorso pubblico, è il pensiero. Come se questi fossero la stessa cosa, come se questi fossero vicini. A volte sono persino antitetici. Oggi siamo stati abituati ad un modello di trasmissione di contenuti culturali o pseudotali che io definisco da spremuta d'arance. In che senso? Si prende una cosa, si prende un'altra, se ne prende un'altra, le si mette insieme, le si spremono insieme, si fa un bel riassuntino, un bel condensato e questo passa per pensiero. Ma non è pensiero. Se il ricorso ai concetti, alle idee, a una linearità, la costruzione oppure alla costruzione di un percorso intellettuale che faccia capire come un'idea parte da un'epoca e poi si trasforma, arriva fino ad oggi, è un percorso culturale, la limitazione a questi riassuntini non è ancora, a mio avviso però questa è un'opinione personale, cultura, ma sicuramente non è pensiero e questo è un fatto oggettivo perché il pensiero utilizza A, B, C e D per poi aggiungere qualcosa, E, F, G o anche E, anche una virgola, anche un punto. Tutti questi, la gran parte di questi prodotti culturali, in un caso Adorno e Orkameron parleranno appunto di industria culturale, perché produce, produzione non è pensiero, sono delle spremute d'arancia. Dove ci sono le arance le si spreme e c'è il succo d'arancia, gli si dà il succo d'arancia da bere agli studenti e poi gli si chiede che gusto aveva. Ma non è ancora pensiero. Abbiamo ricordato qui nel contributo su Simone Weil, il suo rapporto con Alain, il quale da grande docente, ma anche da grande pensatore, da grande filosofo, insegnava ai suoi studenti l'importanza e la fondamentalità del pensiero. Da Stenken si direbbe in tedesco. Una dimensione che oggi sfugge, perché siamo abituati a confondere per l'appunto la spremuta d'arancia con il pensiero. E non è soltanto, vedete poi, tutto un effetto a cascata. Se voi volete una prova di questo, non c'è bisogno di andare nelle aule accademiche. Basta appunto aprire i contributi di coloro che provengono dall'ambito accademico, oppure che ne sono ancora legati, coloro che tutti questi, molto spesso anche studenti, che purtroppo hanno quel concetto dell'anuale della cultura. Io ho letto quelle due cose, le metto insieme, perché è anche lo stesso concetto dell'esame. L'esame avviene appunto sulla base di questi criteri. La domanda risponde. Questo è un problema serio, un problema grave, un problema serio. Ed è un problema che sta facendo scomparire quella che è l'ottica culturale. Io vorrei aggiungere una notina su questo discorso. Chiunque si avventuri per librerie antiquarie si accorge come negli ultimi decenni i librai antiquari sono costretti persino a rifiutare del materiale. Perché gli eredi di queste persone che avevano delle biblioteche, che leggevano, che avevano un rapporto con la cultura, non hanno più questo rapporto, non hanno più questo interesse. Molto spesso sono anche persone che appunto hanno finito dei corsi di istruzione superiore, che magari insegnano, che hanno chissà quali concorsi pubblici. Però appena muore il nonno, il padre che aveva una biblioteca fornita, la prima cosa che fanno è chiamare l'antiquario e dire quanto mi dà. Questo oltre a far scomparire, voi direte però poi i libri passano di mano in mano, non è così perché anche lì si stanno rarefacendo anche coloro che frequentano appunto questi luoghi. Il libro diventa più un... soprattutto nell'ambito antiquario succede questo evento in cui il libro si trasforma in un oggetto da mettere in parete per per la media borghesia, dunque è rilevante la copertina, è rilevante la doratura, se in marocchino, se in quarto, ma non il contenuto del testo. Una cinquecentina magari tutta fatta a pezzi vale solo perché è un pezzo del cinque, è un pezzo soltanto per la datazione, non per il contenuto. Ci sono libri dei quali... vabbè adesso il tema non è sul... sulla decadenza e sulla scomparsa del libro, ma forse sulla scomparsa del lettore, sulla scomparsa del... di colui che sa ancora mettere insieme due più due, che sa fare un discorso, che sa portare avanti un discorso. Vedete, una delle cose... uno dei tanti sintomi della nostra crisi, che non soltanto è una crisi culturale, ma anche una crisi sociale, democratica, ovviamente, perché le cose sono sempre connesse, la cultura è sempre alla base della... della socialità, soprattutto è alla base della democrazia. Noi tendiamo a... ignorare o dimenticare che la filosofia è figlia della democrazia. Non viene ricordato abbastanza questo tema. La filosofia nasce nell'Atene della democrazia. Prima non è filosofia. Noi la chiamiamo filosofia, ma non è filosofia. Sapienza. La chiamiamo con un termine posteriore, chiamiamo quello che viene prima. E noi dimenticiamo... e perché? Perché la filosofia ha appunto un ruolo critico, ha un ruolo di pensiero, ha un ruolo di... introduce il dibattito che è appunto un elemento centrale, dovrebbe essere un elemento centrale della democrazia. Vedete, anche qui la decadenza delle nostre presunte democrazie si dimostra proprio nella scomparsa del dibattito politico, ma non soltanto a livello dei cittadini, ma proprio anche a livello parlamentare. Io non potrei dissentire maggiormente di quanto dissento con il più famoso filosofo... sofista... sofista italiano, che sarebbe il signor Sgarbi. Ebbene, quando però di recente a questo signore, questo piccolo filosofista da paese di provincia ha tenuto un discorso al Parlamento relativo alla diminuzione dei parlamentari, ebbene ho notato che le obiezioni che gli venivano fatte, innanzitutto c'era un ruolo del presidente della Camera, della presidentessa della Camera, che era scioccante nei tentativi che questa signora introduceva per fermare il discorso di questo diputato eletto. E poi questo qui, che citava dei fatti, cose relative a sentenze, è questa che continuava a ripetergli dietro la prego di moderare i termini, la prego questo, la prego l'altro. Persino il concetto di quello che è il cuore della democrazia, che è proprio il dibattito, è stato cancellato. È stato cancellato anche appunto nell'ambito sociale normale. Tu chiedi a una persona oggi di fare un discorso critico, infatti la critica oggi è un elemento visto come negativo, di non essere critico. E non è soltanto un fatto italiano, attenzione. Notina personale però divertente. Tanti anni fa a Chicago mi venne chiesto di partecipare a questo corso sul critical thinking, sul pensiero critico. Ebbene, il relatore, d'un tratto, dopo che io gli avevo fatto una, due, tre osservazioni, sbottò nell'osservazione E a quel punto ovviamente i presenti si misero tutti a ridere perché erano persone che capivano l'assurdità che questo signore aveva detto. Però questo è un esempio estremo per far capire come la critica ormai scompare perché si vuole una società normata secondo i criteri dell'ideologia, della forza, del potere, della versione determinata da chi detiene i mezzi. E dall'altra parte corrisponde una scomparsa della cultura. Perché vedete, se io ho accesso al libro, a uno che viene e mi dice ma guarda che la torre di Babele era in Sud America io dico not the case non è così Ebbene, il libro rappresenta, siccome rappresentava una volta anche il peso della cultura ma anche dell'autorità del passato aveva un valore anche rappresentativo poi si parlava con persone che avevano anche un retroterra culturale quelle stesse persone di cui dicevamo prima che avevano quelle biblioteche che adesso vengono svendute il processo è evidente, il processo è ovunque non è un processo che uno dice lo stiamo tirando fuori qui le librerie chiudono le biblioteche sono dei luoghi spettrali ci sono gli studentelli che stanno lì e trascrivono le cose ed è finita lì di biblioteche come poteva essere faccio un esempio chiaramente tra i più grandi ma la British Library ai tempi della metà dell'ottocento con studiosi che elaboravano le loro teorie che lavoravano dentro queste biblioteche è impensabile oggi ci sono la gran parte delle biblioteche universitarie dove non si non si vedono i docenti non si vedono proprio non ci sono si trovano gli studenti ma non i docenti ma anche le librerie io dico sempre c'è una libreria famosa a Princeton dove ero solito ripetere quando io vado in questa biblioteca sono sicuro che non ci incontro nessun professore tranne nel momento in cui devono andare lì per tenere una delle loro piccole conferenzuccole perché nel basement nel seminterrato ogni tanto si tengono delle piccole letture sui libri che hanno scritto e lì fu dove vabbè troppi esempi personali ma era una storia fu dove ve la racconto ma assistetti a una conferenza di Elaine Pagels della quale avevo due libri che viene considerata una grandissima autorità sull'ognosticismo sui Vangeli Gnostici sull'Apocalisse dopo aver sentito 20 minuti di quel discorsetto che era buono per le scuole medie superiori forse dove una parlava del tema dell'Apocalisse senza citare neppure il nome in originale in inglese l'Apocalisse si chiama Revelations perciò si perde proprio tutto quel contenuto che proviene dal greco che noi riprendiamo con la quasi traslitterazione di Apocalisse si perde completamente questo ha fatto un un discorso di un'ora senza pensare che magari era rilevante e ne dico una ed è stato il primo caso in vita mia in cui ho preso due libri questi due libri che avevo di questa signora e e li ho dati via anyway torniamo al punto di partenza sulla freddezza del pensiero ebbene quando qualcuno dice questa cosa loro non gli dovrebbe chiedere fammi un esempio e appunto dicevamo potrebbero tirarti fuori qualche docente universitario allora poi guardo io un po' intorno tra i libri e mi chiedo vedete era forse ne ho presi ne ho presi due tre perché non si finirebbe più e dicevo è forse Platone il e forse Socrate questo pensatore freddo che è morto per il pensiero che è morto per insegnare una filosofia etica all'umanità e allora forse Boezio nella consolazione della filosofia Maglio Severino Boezio un altro pensatore freddo che ha che è stato decapitato decapitato e prima di morire decapitato ha scritto questo meraviglioso trattato che si chiama la consolazione della filosofia in cui non soltanto parla del peso del valore dell'importanza della cultura del pensiero della filosofia ma anche del dell'inesistenza del male nonostante lui fosse il primo a subirne le conseguenze e chi è altrimenti un pensatore freddo Pessoa che lo fecero che visse tutta la vita da corrispondente estore produsse un castello enorme immenso di pensieri di poesie di arte e potremmo continuare a lungo con questa carrellata vedete ho trovato anche ho preso una chicca che di un filosofo tedesco che si chiamava Wilhelm Weichel il testo auch eine philosophie Geschichte significa anche una storia della filosofia e questo è un testo in cui davvero delizioso Weichel scrive delle poesie su alcuni pensatori che lui ha studiato di quali si è occupato tra cui appunto Tommaso Aristotele Socrate chiaramente Ockham Nicola d'Acusa Descartes eccetera ma anche le correnti gli empiristi inglesi Lafcleron l'illuminismo perché prendo questo testo perché Weichel è il curatore più importante delle opere di Immanuel Kant l'edizione più importante la più prestigiosa la meglio curata delle opere di Kant l'ha scritta lui quando dite Kant pensate Kant un pensatore freddo ebbene a parte che nel pensiero non c'è mai freddezza ma questo qui stiamo andando molto avanti io voglio soltanto fare osservare una cosa una tra le tante possibili di Kant perché come potrebbe mai essere freddo chi pensa il pensiero è una delle aperture più possenti più profonde verso la vita verso il cosmo verso l'umanità molti su quanti sono morti appunto bruciati decapitati esiliati massacrati per il pensiero che però poi vengono denigrati vengono denigrati a livello della collettività o del parlare comune dicendo il pensiero è freddo i pensatori sono equiparabili a quello che religiosamente sono i santi infatti nel Ficino era quello che diceva Santo Socrate nel periodo del Rinascimento era anche molto diffusa questa espressione molti pensatori sono anche santi Sant'Anselmo San Buonaventura San Tommaso e diciamo Kant perché Eckhart è Speichard che si occupa di Kant e poi scrive delle poesie bellissime ha scritto anche una due volumi tradotti in italiano da Marsilio dal titolo Il Dio dei Filosofi un lavoro anche molto bello ebbene Kant che viene che potrebbe magari essere da chi non non sa leggere dietro le potrebbe essere utilizzato come un pensatore freddo è però colui che ha detto che l'infinito morale in noi è tanto grande immenso quanto l'infinito morale sopra di noi quanto il cielo stellato sopra di noi la famosa frase che viene in genere riassunta con il cielo stellato sopra di noi già lì c'è un elemento non proprio così freddo non ha detto come l'infinito dei numeri primi o come l'infinito ha detto il cielo ha fatto apposto una relazione tra l'infinito morale dell'essere umano e l'infinito del cosmo però già basterebbe per come esempio però possiamo ancora andare avanti alcuni anche in certi manuali dove si fanno le spremute citano che Kant riprese con buona probabilità questa immagine da Rousseau quando nelle passeggiate c'è quel momento in cui lì si mette sul prato e comincia a guardare il cielo ma è un'associazione probabile o forse un riferimento indiretto ma non del tutto corretta e guardate com'è bello questo questo punto quando Kant era ragazzo sua madre che era una conoscitrice che amava molto l'astronomia lo portava in giro per i campi di sera per i campi di vicino a Königsberg e gli faceva guardare le stelle e gli insegnava i nomi delle costellazioni ebbene vedete cosa succede qui Kant parlando dell'infinito morale sta si ponendo questa relazione tra come farà dopo Leopardi sempre caro ma il rapporto tra noi e l'infinito sta ponendo Kant la relazione tra l'infinito morale dell'uomo dell'essere umano e dell'universo ma sta anche ponendo un profondo nocciolo che lo porrebbe almeno in questa parte del suo pensiero tra i pensatori del romanticismo so che adesso gli spremutori d'arancia se dovessero sentire una cosa così lasciamo riperdere sta ponendo questa dolcissima profonda relazione con sua madre attraverso una frase dalla enorme rilevanza e profondità filosofica il pensiero freddo vedete com'è freddo il pensiero è freddo per chi non lo studia è freddo per chi non lo conosce è freddo per chi fa le spremute ovunque ci si rivolga nella storia del pensiero si trova passione amicizia pensate ai pitagorici che si chiamavano tra di loro amici nella sapienza si trova calore umano perché le fonti della cultura si nutrono alle sorgenti dell'umanità più autentica non quella delle fiere dei valvassori o dei sofisti quella è altra cosa quelle sono altre cose dei mercanti ma quella è altra cosa eppure quell'altra cosa che chiama fredda la razionalità che invece è passionale luminosa e vera Abraham Joshua Heschel scriverà per l'appunto un libro dal titolo passione di verità passione al tempo stesso potremmo ben tradurre anche il termine filosofia con passione per la sapienza ed è proprio sul punto tema della passionalità che si vede il pensiero e si manifesta la verità di coloro che pensano autenticamente non di quelli che fanno spremute d'arance grazie 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 grazie